Centro Tecnico Federale di Coverciano, la sesta edizione di questo seminario tecnico per quanto riguarda tutti i giornalisti sportivi. Grandi ospiti e soprattutto grande formazione per tutti noi. Andiamo a vedere chi ci sta aspettando. Luigi Ferraiolo è un grande giornalista ma soprattutto è il nostro presidente. Presidente dell'Ussi, Unione Stampa Sportiva Italiana, questa sesta edizione possiamo dirle un grande successo. Se lo dite voi sono molto contento. Noi cerchiamo ogni anno con la federazione di metterci l'impegno giusto. Credo che sia un aggiornamento utile per tutti i colleghi. Il senso è questo. Per la prima volta dopo sei anni ci sono colleghi di tutti i 20 gruppi dell'Ussi. Cioè vuol dire tutte le regioni italiane sono state rappresentate da alcuni colleghi che sono venuti qui a Coverciano per questi due giorni credo molto intensi. Su temi di grande attualità con personaggi di alto livello. È insomma una formula giusta che abbiamo indovinato sin dal primo anno che grazie anche al sostegno della federazione riusciamo a portare avanti. Possiamo dirlo. Tanti hanno richiesto la scoperta dei valori. Svolta noi giornalisti sportivi portiamo avanti questi valori. Beh sì questo è un compito che non dovremmo mai dimenticare soprattutto in un periodo storico come quello in cui stiamo vivendo. Credo che riscoprire i valori e cercare di difenderli, tutelarli anche nello sport e soprattutto nello sport sia fondamentale. Oggi abbiamo parlato, ieri abbiamo parlato tre ore del problema delle scommesse, della corruzione, della giustizia sportiva. Ecco tanto per essere chiari abbiamo parlato con due grandi allenatori di come si costruisce un successo che non vuol dire soltanto il 4-6-2 o tutte queste idee tattiche ma è un problema anche di valori umani, di gruppo. Quindi c'è al fondo di ogni nostro discorso l'attenzione verso i valori che dobbiamo riportare sicuramente in auge dopo anni un po' bui. E a livello istituzionale la presenza è garantita dal direttore generale della federazione italiana gioco calcio Antonello Valentini. Un appuntamento importante, questa sesta edizione, grandi nomi anche a questa edizione. Sì, noi cerchiamo ormai da sei anni con il contributo dei russi di ospitare qui a Coverciano giornalisti che abitualmente si occupano di calcio per uno scambio di opinioni, uno scambio di esperienze ma anche per fornire loro strumenti di aggiornamento, informazioni ulteriori sulle regole, sull'organizzazione dei campionati, sulla giustizia sportiva, sul sistema arbitrale. Cioè il tentativo di crescere insieme ai colleghi della stampa sportiva. Tanti colleghi presenti, soprattutto grandi testate sia giornalistiche che chiaramente televisive. Quindi una grande attenzione per il futuro dello sport italiano. Beh sì, noi abbiamo cercato sempre qui di portare grandi personaggi dello sport. Voi vi ricorderete certamente Pratini qualche anno fa, allenatori di fama internazionale, uomini di cultura. Tutti appassionati di sport con un intento e un obiettivo comune, quello di migliorare il calcio che ne ha bisogno. Come FIGC il futuro del calcio italiano, soprattutto anche un'occasione per il movimento giovanile? Sì, soprattutto per il movimento giovanile, però il futuro del calcio italiano passa anche attraverso alcuni interventi strutturali. Penso per esempio agli stadi, perché senza gli stadi di nuova generazione non andiamo da nessuna parte. Dottor Stefano Palazzi, un bel convegno, soprattutto la giustizia sportiva, quale futuro? Ne abbiamo parlato al convegno, ci sono tanti temi sul tappeto e sono sicuro che il potere normativo federale e del CONI riuscirà a trovare delle soluzioni calibrate per le esigenze della giustizia sportiva, con tutte le problematicità che sono state toccate in questo convegno. La omessa denuncia, sono proprio pochi giorni fa, la Salernitano, un giocatore salernitano, ha fatto presente che è stato contattato da un altro giocatore. Quindi il suo lavoro, fa virgolette, possiamo dire, sta premiando la coscienza. Certo, l'abbiamo detto anche oggi, tutti gli interventi hanno sottolineato che è un aspetto che va combattuto, c'è un fenomeno grave che va combattuto soprattutto dal punto di vista della prevenzione del fatto culturale, di una cultura diversa da parte dei tesserati, di coloro che praticano questo sport così bello e che appassiona e che muove tante passioni e sentimenti della gente. Il calcio buono, il calcio vero, rivolto chiaramente a quella parte anche della tifoseria che crede ancora nei valori. Certamente, certamente, ma questo deve essere un motivo per ripartire ancora più forti e ancora meglio, per una federazione, per un movimento che ha i vertici mondiali, non dimentichiamolo mai, perché è un po' tipico di noi italiani dimenticare quello che siamo a livello calcistico, cioè la seconda potenza, se non mi sbaglio, al mondo. E quindi? Autore dei sottotitoli a cura di QTSS